guarda la gomma o sta andando col cerchio e ciao guarda dove c'è raggiù vai vai mi mette lì più veloce l'alda avanti l'alda avanti via via giusta ma via veloce più sei lento e più ti ferma e torna indietro aspetta aspetta che ho la marcia aspetta aspetta che adesso la metto in moto era giusto ma devi essere più brillante sia da soprattutto ma anche qua un pelino di più quando arriva al davanti allora fai e ti fermi la c'è sempre il cavo della carrucola lo vedi? ah da fare da lì fino a di là cosa? la carrucola c'è il cavo attacchi la moto e vai di là va va? il primo po' lo facciamo dai va bene e il cavo ma che è sempre lì il cavo è sempre là lo vedi? il cavo della carrucola sopra quell'albero lì sempre lì e chi è? e chi è? cazzo allora e dagli su sta mezzo casa giù adesso vi faccio fare quella dei tronchi che è uno spettacolo un uova di patta una figata della madonna è perché fai la curva fai il sasso l'hai fatto da parte se tu fai il sasso in mezzo ti trovi già diritto invece lì fai la cura metti il piede ma che lo fa a zero? fatti vero lo fai pensavo che lo faceva a zero pensavo che lo faceva a zero io vengo su bene da lì no non vado a prendere con lo scivoloso mi piace fare più cosa ma se tu fai il coso ti trovi già dritto poi vai via dritto ma a me non mi piace ma tanto non lo senti neanche vabbè lo salto via bene per me se la tiva in testa io lo salto via bene no sì 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 quello sì dai rifalla qui sono già sul cibo ti ho detto che quando asfalti dopo è così non devi asfaltare vai fai 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 perché c'è le gambe così se no col cavolo la gamba lunga cazzo figano un altro fai fai è sempre e fai Ah, non mi vissi, non mi vissi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.